Vai Capitù! Tira a basso con il tiraglios! Provescio! Che si ristupendo! Il popperto per gli annaci e la fai lasciato! Buongiorno tu! Ma che c***o suiiti? E' già... stai bene 3 metri porciò ma madonna e quant'è da io? ehi a Bonia ma stiamo pazienti e due e mezzo e due e mezzo in piano buon amico hanno vado 3 e 3 a partire come hanno vado di De Franco guarda De Franco di De Franco che figlio è Bonia 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 è Bonio buon giù mamma mia Grazie a tutti.